L'importante iniziativa della Polizia di Stato questa volta, una non edizione tra l'altro di Una vita da social, è una campagna educativa itinerante della Polizia, è un tour di 73 tappe, parte da Bologna. I temi sono quelli dei social network, del cyberbullismo, in un track allestito con un'aula didattica multimediale e lo vediamo viaggiare, eccolo qui. Gli operatori della Polizia Postale incontreranno gli studenti, i genitori, gli insegnanti su tutti i temi che riguardano la sicurezza online. L'obiettivo è quello di prevenire episodi di violenza, di vessazione, di diffamazione, di molesti online di cui sono spesso vittime i nostri ragazzi, attraverso un'opera di responsabilizzazione in merito all'uso della parola. Dai dati raccolti emerge che un ragazzo su tre ha un profilo fake sui social, cinque su sei controllano sempre chi mette like ai loro post e un minore su due è vittima di violenza. Sono dati importanti, questi è importante, altrettanto è la campagna della Polizia di Stato.